allora scusate perché questa tipologia di promo è una cazzata però vabbè dai ogni tanto lo fa anche il pump e 69 quindi se a 100.000 like della mia ultima foto ci arriviamo domani vi svelo copertina e uscita dell'album mare vedi che a 100.000 like ti faccio uscire la foto compa che problema c'è 100.000 tanto ci arrivava comunque in uno o due giorni così la facciamo arrivare prima vedi che è fuori ti svegliamo la copertina che problema c'è per la foto per la foto che problema c'è arriviamo a 100.000 mi svela la copertina me la fa vedere subito io lo dico a tutti gli amici di cagliari di sassari di ulbia io lo vado a dire a tutti i soci no ma poi la spocchia con cui si presentano questi 100.000 ma chi cazzo sei ue testina retromarcia vula bassi schiva i sassi perché con me non hai capito cazzo io like non te lo metto oe renattino pischia la fringuella abbiamo per 100.000 like che problema c'è che poi dicono che a giro ma senti che te ne metto tre io faccio tre account ti metto tre like belli se ognuno di noi fa così ci arrivi domani vuoi vedere faccio vedere sta copertina dai ah regà sta uscire il disco di tedua e mi fratello tedua regà non potete capire stanno a caricare l'olimpico c'è sta tutta la folla con sappietrini per questo evento non hai capito a firenze garbare garba garbare garba non poco eh si ascoltano gli altri si e si va a mare la musica di tedua ma pisa lucca non c'è rivalità eh invece pensi che noi non l'ascoltiamo che a noi non piace tedua credi che noi non scarichiamo che 100.000 wow frate mogarnan amm 100.000 va a giustare la copertina napoligina sembra sì ma è una cosa incredibile e non si capisce più niente se non esce la copertina a noi in realtà che l'aspettiamo potta se ci fai vedere la copertina noi poi siamo anche più felici ci fai ricatti 100.000 a noi sai che con noi non si fa così potta fai bravo dai prendi degli schiaffoni eh vecchio quando viene ospitiamo a bologna ma il ragazzo ci giornale sa se arriviamo a 100.000 cazzo cazzo ve lo giuro ve lo prometto che vi faccio vedere la copertina la copertina